Ehi, buongiorno a tutti amanti della chimica, io sono Francesco, in questo video vi parlo della nomenclatura dei sali doppi. In particolare ci siamo lasciati negli scorsi video con la nomenclatura dei sali tannari metapiroto e con la nomenclatura di ossi acidi e ossi agnoni. In questo video vi spiego la nomenclatura dei sali meno popolari, diciamo, però che in certe verifiche di chimica possono saltare fuori. Per chi non mi conoscesse, io sono Francesco, sono pedito chimico e dottor in chimica industriale. La mia missione in questo canale è spiegare la chimica a tutti, sia alla gente che ne sa già qualcosa, sia alla gente che parte totalmente da zero. Timo ad iniziare il video, sigla! Come abbiamo visto nello scorso video che vi lascio qui sopra, per ogni protone che viene tolto all'ossiacido si aggiunge una carica negativa al residuo, passando così dall'ossiacido all'ossiacione. Gli acidi che contengono più di un atomo di idrogeno sono detti poliprotici. Essi possono togliere un numero di variabili di protoni ottenendo sali acidi. Per esempio l'acido carbonico, H2CO3, può dare origine cedendo un protone all'ione bicarbonato e cedendo anche il secondo protone all'ione carbonato. Oltre ai sali acidi esistono anche i sali basici, che uniscono uno o più ioni OH-, detto anche anione idrossido. I loro nomi si formano aggiungendo i termini monobasico o dibasico a seconda del numero di gruppi OH che sono indicati tra parentesi. Alcuni esempi possono essere questi, LOHSO4, che si chiama sulfato monobasico di alluminio, oppure DIOH preso due volte, quando è tra parentesi si dice preso due volte, Cl, che si chiama plururo dibasico di bismuto, e Ca2OHPO4, che si chiama fosfato monobasico di calcio. I cosiddetti sali doppi sono sali composti da due diversi cationi metallici, entrambi legati all'anione poliatomico. La loro denominazione segue le stesse regole degli altri acidi, quindi aggiungiamo semplicemente il termine doppio dopo il nome dell'anione. Come il nome del composto Ca, Mg, Co3 preso due volte, si chiama carbonato doppio di calcio magnesio, conosciuto anche come indolomite. Infine, i sali idrati sono i sali i cui ioni sono legati a una o più molecole d'acqua. In questo caso aggiungiamo al nome del sale il termine idrato, preceduto dai prefissi mono, di, tri, tetra, eccetera, quelli che ho spiegato negli scorsi video, in base al numero di molecole d'acqua indicate dalla formula. Per esempio, il composto CaSO4 per 2H2O si chiama sulfato di calcio di idrato. Ora vediamo alcuni esempi di nomi tradizionali e IUPAC. Se sei a digiuno riguardo la nomenclatura dei sali tarnati, ti lascio il mio video qui in alto. Ecco, in questa tabella che vi ho preparato, nella prima colonna c'è la formula del composto, nella seconda c'è il nome tradizionale e nella terza c'è il nome IUPAC. Nel primo composto si chiama NaH2PO4, questo qui è un sale. Secondo la nomenclatura tradizionale si chiama fosfato biacido di sodio. Fosfato perché è il gruppo PO4, di cui il fosforo ha il numero di situazione più alto, quindi più 5. Biacido perché? Biacido si riferisce a B perché ci sono due atomi di idrogeno e biacido perché la nomenclatura tradizionale prevede, come vi ho spiegato prima, la parola biacido quando ci sono due atomi di idrogeno. Di sodio perché il catione è sodio. Secondo la nomenclatura IUPAC, questo è un po' più semplice perché si chiama di idrogeno fosfato 5 di sodio. Il fosfato, la desinenza ator c'è di default, indipendentemente dal numero di ossidazione del fosforo, che viene specificato qui, in questo caso c'è il 5. Di idrogeno perché di idrogeno, ci sono due atomi di idrogeno e sempre di sodio. Vediamo il secondo composto. CaHCO3 peso due volte. Questo si chiama bicarbonato di calcio, si sente di dire anche più frequentemente nel linguaggio comune, oppure si chiama carbonato acido di calcio. Questi due nomi sono entrambi tradizionali, uno più comune, primo, il secondo più accademico, diciamo. Comunque hanno lo stesso significato. Carbonato acido, vedete, non c'è biacido perché qui c'è solo un atomo di idrogeno. Secondo il nome IUPAC, questo si chiama idrogeno carbonato di calcio. Anche qui non c'è nessun prefisso davanti alla parola idrogeno perché c'è solo un atomo di idrogeno. Si potrebbe chiamare anche monoidrogeno carbonato di calcio, però quando non c'è prefisso si dà per scontato che l'atomo di idrogeno sia sempre uno. Il terzo composto si chiama NH4 preso due volte, si dice quando è tra parentesi, CO3. Questo secondo nome tradizionale si chiama carbonato di ammonio. Carbonato è l'ione carbonato CO3 col 2- come carica che viene portata dall'apice al pedice dell'ione ammonio che è NH4+. Quindi questo si chiama carbonato di ammonio oppure secondo il nome IUPAC triosso carbonato 4, triosso perché ci sono tre atomi di ossigeno, carbonato è il nome dell'ossianione e 4 è il numero di ossidazione del carbonio in questo caso di di ammonio. L'ammonio è NH4, questo WD, il prefisso D, sta proprio a indicare che ci sono due cationi ammonio prima del carbonato. L'ultimo composto si chiama FeOHBr e questo si chiama bromuro basico ferroso, ok? Ferroso perché il ferro ha numero di ossidazione più 2. Come facciamo a capirlo? Allora, il ferro in questo caso è un catione, quindi tutto il resto, questa a destra, di solito sono degli agnoni. Allora, il bromo ha numero di ossidazione negativo solo meno 1, l'OH tutto insieme ha numero di ossidazione meno 1. Affinché il sale abbia carica totale 0, allora meno 1 e meno 1 fanno meno 2 e il ferro deve avere più 2, no? Quindi per questo c'è ferroso che è il numero di ossidazione più basso del ferro, che è più 2. Quello più alto vi ricordo che è più 3. Secondo la nomenclatura IUPOC invece questo si chiama bromuro basico di ferro 2, ok? La IUPOC, ricordiamoci, tende sempre a specificare il numero di ossidazione. A parte di qua, allora qua si poteva anche scrivere nel terzo composto, si poteva anche scrivere idrogio carbonato di calcio 4, ok? Questo è il nome più comune di IUPOC, secondo me, perché certe volte, proprio in questo caso specifico, si tende più a trovare il nome senza il numero di ossidazione tra parentesi. Se volete potete metterlo, anzi, credo sia più giusto. Ok, siamo giunti anche oggi alla fine di questo video, io spero che vi sia piaciuto e che sia stato utile. Se avete domande o qualcosa che magari non ho spiegato bene, scrivetemelo pure nei commenti, io cercherò di rispondervi il prima possibile e nel modo più chiaro possibile. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale per rimanere sempre in aggiornamento con i prossimi video. Ci vediamo alla prossima, ciao!